Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come A proposito delle recenti voci diffuse dal gossip con una certa insistenza, ci sarebbe della maretta tra Gigi Buffon e la sua compagna Ilaria D'Amico, una crisi su cui ha detto la sua Legnace Redova L'ex moglie del portiere del Parma è stata stuzzicata sui social dagli internauti, ed alla fine non si è trattenuta dall'esprimere il suo parere personale Secondo un rumore che si è fatto largo da qualche settimana a questa parte, tra Buffon e la sua compagna ci sarebbero vari motivi di frizione legati principalmente al loro futuro di coppia La conduttrice sportiva secondo fonti a lei vicine sarebbe stanca di aspettare una gognata proposta di matrimonio, che tarda ad arrivare, per via degli impegni professionali che distolgono il portiere che tarda ad abbandonare il campo di calcio, rincorrendo, record ambito, prolungare la sua carriera il più possibile Le parole di Allegnace Redova sulla crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico spiazzano tutti La seridova interrogata dal popolo web si è espressa sul rumore che vorrebbe in crisi Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, la cieca, che si è separata dall'ex marito nel 2014 quando lui e la giornalista sportiva sono uscite allo scoperto dopo le prime foto dei paparazzi, non ha perso occasione per mettere a segno una stoccata pungente Alla domanda di un utente, è vero che il tuo ex marito non si vuole sposare e la coppia è in crisi? Allegnace Redova candidamente risposto su Instagram, ma io non ne so assolutamente niente Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip Con grande diplomazia l'ex moglie di Buffon si è astenuta dall'infierire sulla coppia dimostrando di aver archiviato ormai da tempo il rancore, dopo il grande scalpore suscitato dal tradimento pubblico che l'ex portiere della Nazionale ha consumato nei suoi confronti proprio con la D'Amico Da diverse settimane il gossip si è accamito non solo sulla coppia VIP formata da Ilari Blasi e Francesco Totti, ma anche sulla situazione sentimentale di un altro noto campione di calcio, Gigi Buffon Un nuovo assordante pettegolezzo, che continua a rimbalzare sui social e su tutti i media non trovando smentita o conferma da parte dei diretti interessati, che hanno preferito trincerarsi dietro un muro di silenzio Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video